Il mondo dell'atletica leggera è luto per la morte di Deon Leondore, velocista di Trinidad e Tobago. Il giovane è morto lunedì scorso dopo un violentissimo incidente. A stradale con il suo SUV l'atleta è morto sul colpo. L'altro conducente, una donna 64enne, è stata ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Sulle cause dello schianto stanno indagando le forze dell'ordine per rendere chiara l'esatta dinamica dell'incidente. Grazie per la visione!